Ciao! Allora, io sto impastando e siccome in tanti me lo chiedono, io molto umilmente, come il solito, vi voglio far vedere come impasto due teglie non-need, con il metodo non-need, cioè senza l'uso dell'impastatrice, ok? Questa tecnica permette di poter fare delle teglie belle, molto belle, anche per chi non ha l'impastatrice, però, va detto una cosa, questa è molto importante, ovviamente l'incordatura fatta a macchina e l'incordatura fatta con il metodo non-need sono diverse, ok? Si possono, allora, chi dice che sono uguali? No, no, non è assolutamente vero, non ha mai visto com'è un impasto ben incordato a macchina, detto questo, non è che quella con il metodo non-need faccia schifo e l'altra sia migliore, no, sono solamente un po' diverse, ne abbiamo fatto diverse prove anche con Rita e Chiara e viene benissimo, viene buonissima, perfetta, però è diversa, ok? Poi, non guardiamo il mostro di Emma, perché lei, come dico sempre io che la prendi in giro, lei sa impastare anche la sabbia, d'accordo? Ma quello è un discorso a parte, quindi, il metodo non-need praticamente si basa sul lasciare l'impasto abbandonato a se stesso, intanto noi ci facciamo i cavolacci nostri, ok? Allora, cominciamo, io prendo una ciotola, aspetta perché non voglio neanche farvi vedere le mie disgrazie, quindi ho sulla cerniera, sì, molto bene, Allora, io ho tutti gli ingredienti qua, faccio fatica a farvi vedere tutto perché dopo sposto tutto, ok? Allora, vedete tutto? Quasi? Io ho fatto un mix di tre farine, ho fatto la semola, ok? L'integrale della polselli, perché ormai sapete che io uso praticamente solo quelle, l'integrale della polselli è la semola e la vivace, cioè quella rossa, io le chiamo per colore, però vedo che mi dicono in tanti, ma qual è? Allora dico, vabbè, quella vivace, quella rossa, ho già pesato il mio lievito, ho già pesato il sale, mi sono già pesato, ho fatto cadere anche il lievito, mannaggia la pupazza, ho già pesato l'olio di semi, ok? Non ho usato quello di oliva e adesso faccio così, allora, io butto il lievito, ok? Dopo se volete vi metto le dosi, ma comunque la tecnica è questa, qualsiasi dosi voi facciate, tutta l'acqua, d'accordo? Allora, il sale c'è chi sostiene prima, c'è chi sostiene dopo, in base a quando volete far partire la lievitazione, sì, tutto vero, tutto giusto, assolutamente, però io ho un problema, che mi dimentico spesso il sale, quindi io butto giù anche quello Oddio, ho messo il lievito con il sale, ma cosa succede? Niente, niente, non succede assolutamente niente, ok? Ok? Ho sciolto, alla bella è meglio, farina integrale, dentro, colselli rossa o vivace, come vi pare, ho fatto i pignoli, semola, ok? Si potrebbe mettere già l'olio, ok? Perché ovviamente è poco, e infatti, guardate cosa faccio io, tac, bom, cioè io tutto quello che non c'era da fare, o che si sostiene che non sia da fare, io l'ho fatto, quindi sale insieme al lievito, olio subito, è poco, non cambia niente Questa è una cosa che vi posso dire non solo io, ma anche Emma, ok? Vedete questa schifezza? Bene, adesso io la lascio qui, poi quando troverò il coperchio, adesso non posso farvi la figuraccia che non ce l'ho al coperchio senza mano, devo far finta di niente Cosa c'è, Nicchia e la tosse? No Allora, ecco Lo vedete questo schifo? Adesso resta qui, fermo Allora C'è una differenza sostanziale tra una farina e l'altra Avete visto che questa farina ciuccia tantissimo Infatti, cioè, sembra molto asciutto, ok? Sembrerebbe quasi una biga Ecco, no, le dosi sono giuste, non le ho sbagliate È proprio una caratteristica della Porselli Ciucciare, ciuccia tantissimo, veramente, assorbe, assorbe tanto Adesso io la lascio qua Io la lascio qua una mezz'oretta Intanto vado di là, do giocare col bambino Voi cosa fate? Andate fuori, andate a fumare, andate a fare l'amore con la moglie, con il marito Con la moglie e il marito assieme O con la vicina di casa, se è una bella donna Portate fuori il cagnolino a fare la cacca Ehi, guardate chi c'è qua Saluti? Ecco, proprio la lingua no Fate quello che volete, ci rivediamo tra mezz'ora Ok? Ciao